Grazie Tony, soprattutto per essere venuto qui da San Francisco, l'AI è il tema scottante di oggi dei mercati in tutto quello che facciamo. Allora, che cos'è l'AI, l'intelligenza artificiale? Come la vedi? È un trend basta o sta qua e non si muove? So che puoi parlare due o tre ore di questo, lo so però abbiamo soltanto 15 minuti, quindi ce la puoi fare? Sì, come no? È la seconda volta che vengo qui a Milano, adoro, mi piace da morire l'Italia, le persone, il cibo, tutto, la cucina, uno dei posti che preferisco. Sono stato salutato due volte, la prima volta che sono venuto qui nel 2022, in estate. Wow, deprimente. Uno dei peggiori anni, veramente. Il tech praticamente sprofondava nell'abisso, tutti pensavano, mamma mia, i tassi di interesse sono scappati proprio di casa. Sono venuto qui, abbiamo fatto degli incontri. Dopo tre anni sono di nuovo tornato ed è cambiato tutto. Che cos'è l'AI? Vediamo, ecco, ti darò degli esempi per capire. È una moda passeggera? Un trend? Sono 25 anni che sono nel settore tech. Secondo me questa è una cosa addirittura più grossa del lancio dell'iPhone. Beh, però vedremo, vedremo, ma è profondo e guardiamo indietro le spalle, non so, vedremo un po' magari col tempo se siamo ancora vivi. Ma è più profondo di internet, francamente, come fenomeno. Un anno fa, un anno fa, dico bene, nel gennaio del 2023, giusto? Il 2022 era terribile, ok, ma il gennaio del 2023 stavo cenando con il CEO, Jensen Wall, di Nvidia, di San Francisco. Eravamo a cena insieme, arriva lì, io ero deprimi, depresso da morire, veramente. E lui invece era felicissimo, dico, ma scusa, perché stai così felice? E allora, durante due ore di cena, mi ha cercato di spiegare quello che sarebbe arrivato, venuto. Era tutto un cambiamento, diceva. E veramente il trimestre di aprile è stato uno dei più grandi trimestri per Nvidia. Mai visto, diciamo, in tutta la mia carriera non ho mai visto una cosa di questo picco. Cioè, veramente, una cosa incredibile in aprile. E poi, basta, è partito e praticamente è aperto i cancelli per tutto quello che è successo. Quindi, questo è solo l'inizio. Che cos'è l'AI? L'intelligenza artificiale. Togliamo questa parola, artificiale, ma è intelligenza. Rimane la I di intelligenza, l'intelligenza, la rivoluzione dell'intelligenza. Costruire un nuovo tipo di intelligenza. Partiamo da questo grafico. Vedete, appunto, c'è questa asse, quella della Y, come vediamo qui, su questo grafico, che è un parametro di misurazione dell'intelligenza. La X è il tempo indicato qui sul grafico. Nel 2017 c'è stato il transform, la nuova architettura, diciamo, dell'AI. Sono i famosi geeks, no? Geeks che sono appassionati di, comunque, film che parlano del transformer. Quindi il nome è rimasto lì, transformer. E poi il GPT-1234 praticamente è cresciuto a 10.000 volte. L'intelligenza quindi della AI, nella versione più corrente del GPT-4, è 1,8 trilioni di parametri. Ma cosa diavolo è un parametro? Cioè il livello di connessioni nel cervello della AI, questo è un parametro. Quando si parla di intelligence, pensate all'uomo, cioè il cervello umano, ecco, sostanzialmente. Il cervello della AI oggi è 1,8 trilioni di parametri. Quello umano invece, corrispondente, è di 100 trilioni di connessioni tra, appunto, il cervello e i neuroni. Quindi 1,8, 100. Quindi l'intelligenza, in termini di connessioni, diciamo, neuronali, cioè non è così intelligente come l'uomo. Però questo AI probabilmente è l'equivalente, diciamo, di un neolaureato dalla Bocconi, diciamo, no? A Milano, questo è soltanto i sei volte, cioè dieci volte, un aumento di dieci volte tanto. Io sono a San Francisco, chiaramente, no? E quindi vado su e giù da San Francisco a San José, la Silicon Valley, eccetera. E tutte le società di AI sono sostanzialmente a San Francisco, cioè soltanto un, come dire, una Holy Grail che c'è, è come un po' una crociata, no? Il Santo Graal. Tutti, nella Silicon Valley, sono impegnati in questa crociata, costruire la AGI, la Artificial General Intelligence. Cosa vuol dire nei prossimi anni? Vuol dire questo. Nei prossimi anni vedremo tantissimi cambiamenti in alto. La prima cosa che vedremo è, intanto, dei modelli più piccoli che entreranno a gestire i vostri telefonini, tostapane, l'autovettura, la macchina. Sta arrivando, quindi, più avanti nell'anno, ci sarà l'iPhone 16, la Samsung Next avrà un AI dentro il telefonino. In un'azienda, ogni azienda avrà l'AI, avrà un'applicazione, quindi oggi magari molti di voi non usano l'AI, no? In tutte le app di oggi. Però magari alla fine dell'anno un 10%, al prossimo un 30% la utilizzerà. Tra tre anni 70%, questo per dire che questi AI arriveranno e funzioneranno, lavoreranno nelle vostre attività. Poi ci saranno questi grossi AI nel settore industriale, settori dei servizi finanziari, legale, energia, assicurazione, eccetera. Quindi saranno di dominio industriale questi AI. Poi qualche azienda, meno di 10 aziende nel mondo, adesso stanno lavorando su veramente quelle che sono le forme di intelligenza più avanzate, che si chiamano modelli di frontiera e questi faranno crescere, comunque cresceranno di almeno un altro mille X, almeno mille volte più intelligenti. Quindi questo neolaureato della Bocconi praticamente sarà spazzato via da quello che arriverà a livello di intelligenza possibile con la AI. E poi l'ultima spinta verso la AGI e ASI. Ecco, la tecnologia sta lavorando su questo. Questa è la nuova crociata, per così dire, del santo grale. Tutto è incentrato su questa missione. La domanda è, è una moda passeggera? No, è l'inizio di una traiettoria, di un percorso verso un'intelligenza che batterà tutto quello che può fare umanamente l'uomo. Con raminificazione pazzesse a livello, diciamo, del nostro lavoro. Noi dovremmo adattarci. E questa è la buona cosa, perché saremmo obbligati ad adattarci. Allora, se questo è il mantra sottostante, il path, il percorso, il viaggio, eccetera, traiettoria, come ci si arriva? Cioè, non è che è soltanto una questione di connessioni più grosse oggi, è un single model quella che le hai. GPT-3, per esempio, cosa facevi? Inserivi un dato, o una domanda, un prompt, e ti dava una risposta. Cioè, testo dentro, testo fuori. Adesso invece testo e immagine. Per esempio, vuoi una foto di Balenciaga? Questo te lo dà. Molto presto ci saranno, invece, multi-modello. Magari sei un ragazzino nella periferia di Milano e vuoi fare magari un film. Però lui chiaramente non è esattamente un regista di Hollywood, non ha 200 milioni di dollari per fare un film. Però può fare lo stesso questo bambino, parlando con le AI, che ti sputa fuori praticamente un film, subito. Bastano un paio d'anni, eh? Potete fare una presentazione in PowerPoint per il tuo cliente, 30 secondi ed è pronta. E voglio fare un contratto legale, tac, 5 secondi. Il modello multi-modello sta arrivando, però c'è ben di più. Non basta, è assolutamente, non è sufficiente per battere l'intelligenza dell'uomo. Ci sono cose come, non so, è un po' come veramente nei film. Ci saranno questi sciami, diciamo, di agenti. Ricordate appunto nel Matrix, nel film Matrix, adesso l'AI manderà altri AI, agenti, che vanno a fare altre task, altri compiti. Ne parleranno, direi, dandogli degli ordini, praticamente, l'automazione è un po' come un alveare. E poi centinaia di AI, tutti intorno, come uno sciame. E sceglieranno quello che è l'AI esperto migliore, le immacciano insieme, le immettono insieme, per avere le risposte più accurate. Una delle grandi cose che può fare ancora l'uomo è ragionare. Cioè, deduzioni logiche di pensiero. L'AI comunque ancora non ha raggiunto questo livello di ragionamento, ma comunque stanno sviluppando per costruire il ragionamento. Quindi ci sono degli esperti, aggiungi gli esperti di questo tipo di ragionamento, la matematica. Ma non matematica semplice, è fare dei calcoli, no. Queste sono teorie nuove, nuovissime, diciamo, matematica, teoriche e i dati. L'AI oggi è formato sui dati umani, su Wikipedia, TikTok, YouTube. È allenato su questo, ma non è sufficiente, non basta. Stanno cominciando anche a... L'AI sta cominciando anche a costruire i propri dati per auto-allenarsi, auto-formarsi. E poi ragionamento simbolico, ibridi. Tutte queste cose insieme nei prossimi anni ci porteranno alla AGI, la EGI. E questo sta arrivando, sta arrivando nei prossimi cinque anni, sarà veramente una cosa pazzesca, uno dei momenti più emozionanti, devo dire, nella tecnologia. Sarà proprio questo e ci sarà anche un orizzonte temporale, una timeline. Quello che avete visto lo scorso anno è stata la prima fase, fase 1. Dobbiamo ricostruire internet. Eh sì, eh sì, dobbiamo ricostruire tutto, tutto internet. L'internet che conoscete e conosciamo oggi era di un trilione di dollari di investimento. L'internet di oggi è TikTok, network streaming, Microsoft Office, email. Questo è internet, fantastico. A fare questo lo fa benissimo, però l'internet di domani sarà AI. Dobbiamo ricostruire tutto internet perché AI consuma molto di più. Per darvi un'idea di quello che è per esempio un server normale di internet, costa 10.000 dollari. Quello invece per l'AI è un server di 250.000 dollari. Perché? Perché mai, accidenti, è così più caro? Perché il server per l'AI e l'output è nell'intelligenza. Prendere l'intelligenza e la appiccicherà, la incollerà dappertutto. Dovunque tutto questo ha bisogno di un internet completamente nuovo. Ed è lì che si troverà il denaro. Gli investimenti si guadagneranno perché prenderemo l'AI e lo porteremo all'interno delle aziende. Ed è lì che si creerà il denaro. E poi verrà appiccicato sull'hardware. Il robot, la Tesla, sta lavorando sicuramente sui bot della Tesla. E ha anche cloni dei Tesla bot in Cina. Ma poi tutto questo spingerà la EGI. E arriviamo come tecnologici diciamo. Noi pensiamo sempre in ordine di stack, cioè di pile. Mi dicono che non c'è una parola, ma stack vuol dire pile, impilamento. Uno strato sopra l'altro. C'è appunto strati su strati. Uso l'analogia del tiramisù. Quindi alla base della fila abbiamo il rosso. Vedete il calcolo accelerato. Cioè i chips e la struttura del cloud. E questo è facile. Vediamo Nvidia. Spendono veramente miliardi e miliardi di dollari per creare questi chip. E poi questi chip vengono comprati da 10 mila miliardi di dollari dagli Amazon, dai Google. Per costruire che cosa? Per costruire il cloud, l'infrastruttura del cloud. E di questo parlo quando dico che appunto internet sarà ricostruito. Un trilione di dollari, pensate, saranno ricostruiti tutti intorno alle AI. E poi portate questa infrastruttura del cloud e poi ci buttate dentro appunto quel brand, il software, sopra l'infrastruttura e questo si chiama Microsoft, OpenAI, Google, eccetera. Come vedete qui. Avrete notato senz'altro, tra l'altro, che questo sarà in assoluto il progetto di investimento più grosso, come ho detto nella storia, dell'uomo. Centinaia di miliardi di dollari vengono a essere spesi per ricostruire un internet che vada bene per le AI. E notate che queste aziende, Google, Microsoft, Amazon, Nvidia, la Tesla, Meta, sono sei dei magnifici sette. E settimo? E questi sicuramente sono saliti, hanno guadagnato circa fino al 250%. Ma questo è soltanto l'inizio della prima ondata dell'AI, la costruzione dell'infrastruttura del modello. Questo è lo scorso anno. Quest'anno continuiamo veramente a salire, a salire in questa pila, diciamo, di livelli. Abbiamo bisogno di dati. Dobbiamo formare l'AI su dati migliori rispetto a quelli di TikTok. Quindi abbiamo, ma sono molto semplici, noi saliamo e basta, molto semplicemente. Quindi adesso con l'adozione degli AI noi investiremo appunto nelle aziende che controllano i dati, per esempio i dati legali che li controllano. E a questo punto dobbiamo portare l'AI nell'azienda all'interno. E a questo punto c'è bisogno di tutta una serie di strumenti, di tool, perché questa AI è una specie inedita, completamente nuova. Tutti i dati, la struttura deve essere rifatta, la base, Noflake, MangoDB, vedete i nomi. E alla fine appunto AI dovrà entrare nelle applicazioni, tutte le app che utilizziamo. Avrete notato sicuramente che i tre strati più alti, questi non sono i magnifici. Sette, ma sono delle nuove aziende, nuovi nomi, sono altre aziende di tech con l'espansione della AI. Non sono i magnifici sette. Guardiamo il concetto della supply chain. Spesso si pensa che appunto la supply chain sia fisica, ma adesso invece c'è una supply chain, una catena degli approvvigionamenti della AI con il compute, i modelli, i dati, il software. Tutte le aziende che stanno portando appunto AI a livello di servizi, tutta la manodopera umana, l'elaborazione, i processi, che può essere tutta reinventata con dei servizi basati su internet al consumatore e poi combinando e fondendo AI con l'hardware. Questa è la roadmap, un percorso verso la AGI, ma c'è un orizzonte temporale in cui questo potrà avvenire e poi c'è uno stack, una supply chain per capire come proliferare l'AI in tutta l'economia. Quindi sì, non è una cosa che durerà un anno. Mi spiace. Grazie. Raffaele, anche lui ci raggiunge da San Francisco, il nostro Global Head di BlackRock Systematic, una delle aree di BlackRock veramente più all'avanguardia, più innovative. Avete lavorato sul tema dell'intelligenza artificiale per più degli ultimi vent'anni. E quindi, Raffaele, ti chiedo, c'è un modo diverso per guardare l'intelligenza artificiale? Non è solo dove investire, ma anche come cambia il mondo degli investimenti. Ecco, che cosa siete facendo da questo punto di vista? Come dicevi, abbiamo lavorato con questo tipo di modellistica per più di vent'anni e ne abbiamo provate di tutti i colori. Esce un paper nuovo, c'è un software nuovo, c'è un pezzo della stack che cambia, è un team abbastanza grande, gestiamo 250 miliardi di dollari, più o meno 200 ricercatori. Quindi abbiamo guardato un po' ovunque. E le due aree che sono rimaste, come le due aree di forza, di applicazione, di intelligenza artificiale, machine learning, le aree di investimento sono, numero uno, analisi di testo, natural language processing, e numero due, questi modelli che aggregano una grande quantità di dati. Quindi potete immaginare, diciamo, delle versioni che prendono tanti steroidi di una regressione. Quindi reti neurali, reti neurali con tantissimi parametri, come diceva Tony. Il cuo obiettivo è di connettere tanti puntini, tante caratteristiche, per esempio, di un'azienda, qualunque dato, immaginate qual è l'opinione di qualunque analista su questa azienda, qual è qualunque pezzo di dato finanziario, qualunque trade, ogni tick che questa azienda ha mai fatto, tutte le notizie in cui è stata menzionata, transazione di carte di credito, annunci di lavoro online, qualunque informazione, quando avete mille, duemila, tremila pezzi di informazione granulare su un'azienda, qual è il modo ottimale di combinarli. E riflettevo sul perché queste due famiglie di modelli, analisi di testo e combinazione di grandi matrici di dati, sono quelle che hanno funzionato meglio in investimento. E la risposta che mi sono dato è che si mappano molto bene alle due componenti essenziali di qualunque processo di investimento. L'analisi di testo essenzialmente fa il lavoro di un analista, fa il lavoro di un analista o di un ricercatore. E i modelli di aggregazione di dati fanno il lavoro di chi fa costruzione di portafoglio e gestione di portafoglio. Quindi non lo sapevo quando abbiamo iniziato a fare questo lavoro, però non sorprendentemente i tipi di algoritmi che hanno funzionato nel mondo degli investimenti sono algoritmi che tendono a amplificare, supportare, in qualche caso rimpiazzare lavori che vengono fatti in tutti i processi di investimento in due motori essenziali. Ora, perché Tony è così eccitato? Ve lo sarete chiesto forse. Tony è così eccitato perché sul primo di questi modelli, sul discorso di analisi di testo, c'è stata questa grande rivoluzione. Questa grande rivoluzione dei large language models, dei transformers. Il modo in cui a me piace pensare a cosa è successo è partiamo da un qualcosa che tutti quanti conosciamo molto bene, un motore di ricerca. Un motore di ricerca potete immaginarlo come una versione base di un'analisi di testo che ha delle funzionalità incredibili ma abbastanza limitate. Ci sono sotto al cofano di un qualunque motore di ricerca. Quelli che hanno la mia età si ricordano i primi motori di ricerca che erano terribili. Alta vista, qualcuno ha detto, siamo della stessa generazione. Sotto ci sono tre pezzi. C'è un pezzo che fa una rappresentazione di un sito web. Un sito web alla fine è testo, 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 o di un documento PDF o di un libro. Fa questa rappresentazione, in inglese si chiama embedding. Aspettate un attimo. Il secondo pezzo è una misura di similarità. Una volta che trasformate qualunque documento, sia un sito web, sia un PDF, sia una presentazione PowerPoint, in questo spazio di rappresentazione potete dire qual è il documento più simile. Quindi fate una query, questa query ha 3-4 paroline e nella intera enormità dell'internet misuriamo la distanza di tutta l'altra informazione. Il terzo pezzo è la rilevanza. Questa è stata la grande idea di Google. Quando Tony diceva The Magnificent Seven, la grande idea di Google è questo algoritmo che si chiama PageRank, che dice che la rilevanza è il numero di siti che puntano a te come sito. La prima generazione, perdo un sacco di tempo ma mi piace questa storia, la prima generazione dei motori di ricerca aveva come rilevanza i link in generale, inbound o outbound, dentro o fuori. Ovviamente un mese dopo tutti hanno capito che per avere il proprio sito bastava che mandavano un sacco di link fuori, invece i link dentro sono molto più difficili, qualcuno deve linkare il tuo sito, lo deve mantenere e così via. Quindi rappresentazione, similarità, rilevanza. Ora se mi permettete l'analogia un po' generalizzata dell'analista, immaginate che è qualcuno a cui dovete dare delle istruzioni molto precise e quest'analista va in un'ideale libreria e trova il documento così come è fatto, che è più simile alla richiesta molto precisa che gli avete fatto. Questi Large Language Models, questi Transformers funzionano in un modo completamente diverso. Quindi se c'è una cosa che vi passo stasera, quando li usate non pensate che siano un'altra versione di un motore di ricerca perché vi perdete il meglio. Possono funzionare come un motore di ricerca, anche se avete un analista più sveglio può fare il lavoro di un analista più limitato, ma potete fargli fare molto di più. E alla base di questi algoritmi, una delle cose interessanti è che sono algoritmi che funzionano prevedendo la prossima parola. Prevedendo la prossima, in realtà, il token che è qualche volta una silbo, una parola, ma insomma non ci perdiamo in dettaglio. Immaginate che sono algoritmi che sono costruiti per prevedere la prossima parola. Quando sono stati costruiti nel 2017, nessuno si aspettava che avessero queste capacità che hanno poi dimostrato nel mondo reale. Settimana scorsa avevamo il nostro Research of Sight, Cerdis, The Six of Stanford, Emanuel Candes, che ha lavorato su questi modelli, dice guarda, un bel segno che una tecnologia è assolutamente rivoluzionare quando anche chi ci lavora non si aspetta i risultati che possono venire. Quindi il motivo per cui questa forma di AI è molto brava alla conversazione è perché sta cercando di prevedere la prossima parola. E quindi, per esempio, se guardiamo una conversazione come una sequenza, una risposta è la prossima parola a una domanda. Quindi questi modelli non vanno a cercare un'informazione che già esiste e che è da qualche parte in un cassettino di questa libreria infinita che è internet, ma la ricostruiscono, la generano. Per questo si chiamano generative AI. Quindi come abbiamo imparato a essere molto efficienti nelle query, tre, quattro parole per guidare il motore di ricerca verso quello che ci serve e qui dobbiamo imparare un po' ad allenare. E la metafora che secondo me funziona quando lavoro con questi modelli è questa idea che è un analista più sveglio dell'analista che fa retrieval come un motore di ricerca. Quindi gli potete chiedere di più. La parte interessante, secondo me, se volete, quando mettete insieme questi due componenti è questa idea di processi ibridi, dove alla fine, se pensiamo a un processo di investimento vent'anni fa, tutti volevano fare tutto. Volevi coprire tutte le classi di attività, volevi avere top down, bottom up. Adesso secondo me è molto interessante immaginare un mondo in cui dei sistemi come questi possono fare molto bene una parte in cui tu non hai la famosa secret sauce e tu concentri le tue qualità dove hai un vantaggio competitivo o dove hai un'esperienza più profonda. Quindi secondo me il modo in cui i processi di investimento si stanno sviluppando, su questo sono d'accordo con Tony, tra cinque anni ci gireremo e diremo wow, quello è stato un momento abbastanza unico. Vivo tale. Magari ci racconti qualche esempio concreto di come poi li implementate all'interno del portafoglio giusto per capire esattamente come funziona. Allora, come vi dicevo, analisi di testo è interessante perché come esseri umani più o meno tutto quello che facciamo, come comunichiamo tra di noi per applicazioni finanziarie è riducibile a testo. È un report di un analista, un report macro, è un'intervista di un CEO dopo gli earnings, è una dichiarazione di un banchiere centrale, è una nota che un analista nel tuo team ti manda. Quindi immaginate noi da sempre abbiamo costruito questo database, riceviamo circa 10.000 report al giorno che vengono automaticamente letti da questi sistemi e catalogati. Nella prima generazione di questi modelli noi fornivamo un dizionario con parole chiave positive e parole chiave negative. Quindi la metafora dell'analista mi piace, come avete capito, trattavamo questi modelli come non molto intelligenti, ma molto efficienti, non si stancano mai con tante lingue, si ricordano tutto quello che è sempre successo. Però gli chiedevamo di contare parole positive e parole negative predefinite da noi. Seconda generazione di questi modelli abbiamo fatto una domandina in più, abbiamo detto, senti, trova tu le parole positive, le parole negative, prova a trovarle, magari sono diverse per diversi settori, sono diverse per small cap e large cap, per compagnie americane, europee, per compagnie tech, per compagnie healthcare e ci sono dei modi di allenare questi modelli a trovare dei dizionari efficaci. Tendenzialmente ci sono, vabbè, mi dilungo? Due minuti? Sì, ce l'hai. Allora, un modo è di, senti, trova le parole che prevedono quali azioni battono il benchmark nei prossimi 20 giorni. C'è tutto un modo per farlo funzionare, questo è un modo. molto interessante che è usato tantissimo anche da questi modelli di nuova generazione in cui in realtà tu togli una parte dei dati che hai e chiedi al sistema di ricostruire quella parte dei dati, quindi hai perfetta conoscenza di quello che stai prevedendo e puoi calibrare la capacità che hai di, per esempio, se lo volessimo fare con questa immagine se togliamo la Y e chiediamo che cosa c'è lì dentro un modello capace mi ci mette la Y perché capisce side by side me la mette anche con il font giusto il colore giusto questo tra l'altro se ci avessimo un'altra mezz'ora possiamo andare nel dettaglio. La terza generazione di modelli fa qualche cosa di diverso sono questi modelli che utilizzano il transformer se ritorno se vi ricordate dicevo rappresentazione similarità rilevanza questa rappresentazione tutto quel stack enorme serve perché la cosa che non ha detto Tony è che dal punto di vista di efficienza questi modelli sono incredibilmente inefficienti nell'imparare se vediamo quanto consumiamo noi come esseri umani in calorie dall'età di 0 a 10 anni siamo circa 100.000 volte più efficienti di un modello che viene trainato su uno stack di GPU Nvidia l'evoluzione è un miracolo possiamo stare tranquilli Evi secondo me parlerà un po' delle conseguenze dal punto di vista dell'energia di quanta energia serve per allenare questi modelli comunque dicevo questi modelli di nuova generazione riescono ad avere una finestra di contesto molto lunga che vuol dire onda mi sto riferendo all'onda del mare o a un'onda elettromagnetica a un modo ragionevole di cercare di capire per un algoritmo che sto dicendo è guardare due o tre parole prima due o tre parole dopo se magari qualcuno se prima c'è barca probabilmente sto parlando dell'onda del mare se dico radiofrequenza probabilmente sto parlando di un'onda magnetica tutte le generazioni di modelli fino a quest'ultima generazione guardavano tre parole prima tre parole dopo questa nuova generazione di modelli questi large language models ha un'architettura che gli permette di guardare tutto il documento di guardare decine di pagine e quindi avere una capacità di contesto molto superiore e finisco con un esempio che secondo me è interessante in realtà non so se in Italia mi capite al volo oppure no però c'è una storia divertente in America la cosa più popolare dell'anno oltre Taylor Swift è questa medicina che si chiama Ozempic che fa perdere miracolosamente peso quando racconto questa storia in America tutti capiscono tutti in realtà la metà dei clienti probabilmente prende Ozempic una volta a settimana ero in Asia a Singapore un mese fa racconto questa storia e tutti mi guardano e dicono Ozempic non capiamo mangia tanto pesce non voglio stereotipizzare quindi lì l'obesità non c'è qui secondo me mangiamo bene quindi non credo che ci sia lo stesso consumo di Ozempic ma l'analista precedente può rispondere alla domanda quali sono le aziende che sono simili a Nuovo Nordisk che è il grande produttore di Ozempic e come lo fa rappresentazione similarità rilevanza magari possiamo dire che è più rilevante un documento scritto da un analista di BlackRock che qualcosa che è sul Financial Times ma questa è la risposta però questi modelli non possono rispondere alla domanda se Ozempic diventa molto popolare in Italia quali aziende ne soffrono quali aziende vedono una diminuzione dei ricavi perché non è una questione di similarità la risposta non è l'azienda più lontana in questa rappresentazione di Ozempic i modelli di nuova generazione hanno questa capacità di completare una frase rispondere a una domanda e quindi quando abbiamo fatto questo esperimento l'esperimento che abbiamo fatto abbiamo chiesto a due analisti un analista macro un analista equity abbiamo fatto questa domanda l'abbiamo chiuso in una stanza abbiamo fatto questa domanda a CiaGPT CiaGPT ha risposto in 20 secondi in 20 secondi formattato come gli avevamo chiesto specifichi dei settori specifichi dei titoli gli analisti domani dopo domani stiamo pensando gli chiedi gli chiedi dopo una settimana ti erano formi una lista di 30 titoli GPT ci aveva dato una lista di 40 titoli l'overlap era l'80% una settimana a 20 secondi e i 10 titoli che erano diversi grande dibattito chi ha ragione ha ragione l'analista ha ragione CiaGPT abbiamo tradato questi due basket per l'anno il basket generato da CiaGPT ha solo performato il basket umano è un caso magari non voglio generalizzare però per farvi capire l'idea di Tony è stato estremamente visionario nell'idea di intelligenza è intelligenza io non lo so se la vogliamo chiamare intelligenza però effettivamente quello che chiamiamo ragionamento secondo me troveremo delle parole un po' diverse non parleremo più tanto di intelligenza secondo me parleremo di creatività dove ancora siamo imbattibili poi parleremo di sintesi questi modelli sono meglio di noi a sintesi parleremo di memoria abbiamo già perso in partenza chiaramente poi parleremo di giudizio abbiamo tutti questi analisti virtuali ci danno delle grandi risposte è una buona risposta è una cattiva risposta ancora lì abbiamo un grande vantaggio e poi il vantaggio finale che abbiamo secondo me soprattutto in questa stanza è passione grinta empatia possiamo avere fare le domande migliori del mondo possiamo avere delle risposte di altissima qualità e poi bisogna convincere le persone intorno a noi comunità società clienti colleghi a realizzare qualche cosa a portare qualcosa dallo schermo o da un laptop nel mondo reale e secondo me tra cinque anni tra dieci anni se camminiamo sul percorso di cui parlava Tony la nostra concezione di intelligenza la nostra concezione del valore aggiunto anche cambierà profondamente avete aperto una finestra grazie mille grazie Raffaele grazie a tutti 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 grazie a tutti